Figura anche il nome dell'ex senatore di Forza Italia, Marcello Dell'Utri, nell'intricato intreccio di società e composizione dei consigli di amministrazione che hanno caratterizzato la storia dei quotidiani e polis e della società controllata, Publi e Polis, per la cui bancarotta ieri sono stati arrestati il presidente del CDA, Alberto Rigotti, finito in carcere, la vicepresidente Sara Cipollini e il consigliere di amministrazione, Vincenzo Maria Greco, entrambi ai domiciliari. In Publi e Polis Dell'Utri, oggi detenuto in Libano, dove si era rifugiato pochi giorni prima della condanna per concorso esterno in associazione mafiosa, era stato consigliere tra il settembre del 2007 e il febbraio del 2008, quando aveva lasciato l'incarico per avviare un'iniziativa imprenditoriale simile, DNews. Intanto, tra le spese effettuate a vario titolo e da diversi indagati, con il denaro distratto dalle casse di Publi e Polis, dichiarata fallita nel giugno del 2011, risultano acquisti per 2.000 euro da Dior, 3.000 euro alle pellicerie Annabella di Milano, senza contare i due assegni per un totale di 70.000 euro staccati per pagare un Porsche Cayenne e le elargizioni liberali da più di 9.000 euro effettuate in favore di uno sci-club. Stando alle indagini coordinate dal pubblico ministero di Cagliari, Gian Giacomo Pilia, un fiume di denaro sarebbe passato dalle casse della Publi e Polis a quelle di diversi indagati che avrebbero aggravato il disesto dell'impresa, anche truccando i bilanci per nascondere il reale stato delle perdite. Per il giudice, la gestione del gruppo, inghiottito da un buco di 130 milioni di euro, è stata caratterizzata fin dalle origini da una serie di anomalie che ne hanno determinato la bancarotta. Tra queste ci sono i pagamenti per oltre 500.000 euro ad una serie di società legate agli indagati e i versamenti, poco meno di 8 milioni di euro, effettuati da Publi e Polis in favore di alcuni creditori di Polis, senza che ve ne fosse una ragione giuridica. Una gestione spericolata, insomma, che ha prosciugato le casse della società e lasciato per strada 150 giornalisti, oltre ai grafici e agli altri dipendenti.